In Barilla crediamo che il cibo abbia la forza di cambiare il mondo. Questo perché il benessere delle persone nasce anche dal benessere di ciò che mangiamo. La nostra filosofia è ispirata dalla dieta mediterranea, dal suo modello alimentare sano ed equilibrato, capace di regalare esperienze sensoriali uniche. In Accademia Barilla ogni giorno ci impegniamo per ispirare le persone e avvicinarle ad una cucina progressista, capace di portare benessere alle generazioni future. Nello stesso luogo dove nel 1910 aprì il primo stabilimento Barilla, oggi sorge Accademia. Al suo interno si trovano le più antiche radici del cibo. Una biblioteca ricca di 15.000 volumi e 5.000 menu storici risalenti al XVI secolo. Ogni giorno spingiamo un po' più in là i confini della sperimentazione e dell'innovazione culinaria italiana. Lo facciamo coinvolgendo e lavorando fianco a fianco con esperti gastronomici autorevoli e con i migliori chef. Grazie al Barilla Pasta World Championship scopriamo e lanciamo giovani chef di talento, i nostri nuovi ambasciatori della pasta nel mondo. La cultura della cucina italiana è al centro di ogni nostra azione e relazione, anche con i nostri partner e clienti. Abbiamo un unico grande sogno, contribuire a migliorare il futuro, dando nuova vita alla cucina italiana. Una cucina bella, buona e che fa bene. Buonasera, siamo in diretta streaming da Accademia Barilla. Siamo nel pieno del settembre gastronomico, che è un mese di eventi dedicati alle eccellenze del territorio di Parma e provincia e questa è la settimana della pasta. E proprio in occasione della settimana della pasta, Accademia Barilla ha scelto di organizzare una conversazione di gusto dedicata alla dieta mediterranea, riconosciuta patrimonio culturale UNESCO. Ma prima di iniziare questa conversazione di gusto, in cui insomma dialogheremo con un ospite d'eccezione, volevo salutare Andrea Belli, relazione esterna del gruppo Barilla. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Andrea. Grazie, grazie Chiara per l'introduzione. Benvenuti, anche se in forma virtuale, benvenuti in Barilla e in Accademia Barilla. Parlavamo di dieta mediterranea come patrimonio UNESCO, ma anche Parma, città creativa UNESCO per la gastronomia. E da Parma è nato tutto 143 anni fa, da una piccola bottega di pane e pasta, è da lì che è nata Barilla. Oggi siamo più di 8 mila collaboratori nel mondo, abbiamo 28 siti produttivi in 10 paesi diversi ed esportiamo i nostri prodotti in più di 100 paesi nel mondo. Ma anche Accademia Barilla. Siamo qui a Parma in Accademia Barilla, che è un centro di eccellenza assoluto per la cultura culinaria, in cui professionisti, esperti, ma anche appassionati, possono partecipare, assistere a sessioni di formazione, di training, cooking session e quindi davvero Cucina Barilla come ambasciatrice dell'arte culinaria nel mondo. Dicevamo settembre gastronomico. Settembre gastronomico, certo. Settembre gastronomico è settimana della pasta. La Food Valley ha delle eccellenze straordinarie, diciamo sono le 4 P, che è il pomodoro, il prosciutto, il parmigiano, ma anche, last but not least, la pasta. La pasta è davvero la nostra icona, è il nostro orgoglio, è il risultato del nostro saper fare, è il risultato dei nostri sforzi, delle nostre competenze, del nostro know-how, della nostra passione. Vediamo qua la nostra pasta 100% grano duro italiano che abbiamo recentemente lanciato ed è un saper fare di filiera che va dal campo alla tavola e quindi abbiamo un approfondimento sulle buone pratiche agronomiche per poi arrivare alla trasformazione delle materie prime, per arrivare ai processi industriali, qui a Parma abbiamo il nostro più grande e sostenibile pastificio al mondo, fino ad arrivare alla maestria dei giovani e brillanti e talentuosi chef che sanno interpretarla. Come l'ospite che poi, esatto, come Davide Guidara, il nostro brillante e talentuoso chef che poi andremo a presentare. Questo saper fare quindi dal campo alla tavola, all'insegna della sostenibilità e del nostro unico modo di fare impresa, che è buono per te, buono per il pianeta. Buono per te tutto quello che ruota intorno al prodotto in termini di qualità, di sicurezza alimentare, l'aspetto nutrizionale, l'informazione che diamo alle persone, per poi arrivare al buono per il pianeta. Buono per il pianeta in termini della riduzione dell'impatto ambientale e quindi dai consumi idrici all'emissione dell'anidride carbonica, piuttosto che tutte alle scelte della mobilità sostenibile. Oggi tutte le nostre scelte, investimenti, progetti, iniziative sono all'insegna di questo saper fare e del nostro appunto unico modo di fare impresa, che è buono per te, buono per il pianeta. Parlavamo di dieta mediterranea. Esatto. Parlavamo di dieta mediterranea e noi abbiamo il modello della doppia piramide. Che compie dieci anni anche il modello della doppia piramide, direi, più meno di quando il... Assolutamente, perché la dieta mediterranea quest'anno ricorrono i dieci anni della proclamazione come patrimonio UNESCO. E il modello della doppia piramide appunto nella piramide di sinistra vediamo la piramide alimentare, mentre in quella di destra la piramide ambientale. Nella piramide di sinistra ci sono le scelte alimentari, le nostre abitudini alimentari che secondo i migliori esperti, scienziati, nutrizionisti al mondo vedete alla base i cibi con il miglior apporto nutrizionale che dovremmo valorizzare e consumare con più frequenza e alla punta della piramide quelli un pochino meno spesso. A fianco la piramide ambientale per significare una perfetta correlazione tra le nostre scelte abitudini alimentari e l'impatto che queste hanno sul pianeta e sono inversamente proporzionali, sono inversamente correlate e quindi c'è una percezione assolutamente immediata di quelle che sono le buone pratiche e le buone abitudini che tutti dovremmo imparare a portare avanti ogni giorno che poi sono i fondamenti della dieta mediterranea. Così come appunto c'è una diretta correlazione con l'impatto ambientale. Anche questo assolutamente allineato con il buono per te, il buono per il pianeta. Però dalla teoria alla pratica. Andiamo alla pratica. Infatti adesso io vorrei iniziare e mi sposterò vicino ai fornelli perché entriamo nel vivo del nostro talk. Allora auguriamo ai nostri spettatori buon divertimento. A dopo. Io mi sposto qua vicino e presento il nostro ospite di oggi che viene definito l'Enfant Prodiche della cucina mediterranea. È un giovane chef ma nonostante la sua giovane età ha alle spalle un'esperienza con grandi nomi. Da Michel Brat al Noma. Davide Guidara, chef del ristorante Sur di Catania. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Davide, Enfant Prodiche della cucina mediterranea quindi è nel tuo DNA ma esattamente che cosa vuol dire? Cioè, saper lavorare la cucina mediterranea vuol dire anche conoscerne le fondamenta conoscerne la storia che ha una storia con radici veramente radicate nella nostra mediterraneità. A cosa ti ispiri? Come ti è venuta questa passione? Certo. Allora, ciò che più mi ha affascinato del Mediterraneo è stata la sua evoluzione nel corso dei secoli di come ha saputo accogliere tantissime culture differenti tantissimi modi, preparazioni, religioni anche differenti e abbia a distanza di secoli ottenuto una propria identità fortissima. E questo trovo delle similitudini in quello che era il mio percorso professionale. Io ho 15 anni, zanetto in spalla, giro, faccio delle esperienze dopodiché oggi mi ritrovo in Sicilia nel mio ristorante a creare quella che è oggi la mia identità. Quindi sì, ci sono state queste similitudini. Oggi ho anche cambiato un po' la filosofia mia di approccio al Mediterraneo. Prima all'inizio era studiare la storia quindi andare a prendere gli elementi che per noi di Collettivo Mediterraneo insieme a Marco Ambrosino erano interessanti e andarle a tradurre in una cucina moderna e servire al ristorante. Ne stiamo vedendo alcuni esempi. Intanto vedo che ci sono, che stanno scorrendo alcuni dei tuoi piatti che ben spiegano quello che tu stai raccontando. Questo qua, fagioli e miso, ci sono alcuni a cui sono molto legato. Ci si illuminano gli occhi quando vedi i tuoi piatti. Ci sono alcuni a cui sono molto, molto, molto legato. Oggi invece con profonda umiltà e continuo confronto con altri professionisti e studiosi perché ho la fortuna di collaborare con due università quella di Catania e quella di Messina stiamo cercando di capire quale sarà il futuro della dieta mediterranea. Ma io ho visto che nei tuoi menu sempre a proposito di dieta mediterranea sono presenti molti primi piatti e quindi questo te lo devo chiedere la pasta, quanto è importante nella tua cucina? Che cosa significa per te? Allora, come dicevo prima, la storia è importante quindi faremo qualche passo indietro per raccontare che cos'era la pasta. Allora, i primi accenni di una pasta secca come noi la conosciamo sono di un geografo arabo Al Idrisi, intorno al 1154 parla di un mangiare di un cibo di farina tirato a forma di fili che veniva prodotto nella città di Trabia cioè Palermo L'antico nome Sì, e il passaggio dopo in questo libro racconta di come questi fili venissero esportati in tutto il Mediterraneo quindi questo cosa ci fa capire? Perché infatti prima perché ci sono ovviamente tracce di esempi di pasta anche stiamo parlando del periodo etrusco però all'inizio ho fatto la premessa intesa come pasta secca moderna perché lui in questo testo racconta di come gli arabi esportassero questa pasta attraverso il Mediterraneo quindi questo ci fa capire che sono stati i primi ad utilizzare grano duro a differenza del grano tenero che veniva usato prima Pasta Allora, pasta per me è fondamentale per due cose Due motivi Uno è l'ingrediente quindi stiamo parlando già di cereali lavorati per il consumo umano ma già in un periodo antichissimo ovviamente per necessità, per spostamenti ma la pasta almeno oggi per me ha un ruolo ancora più fondamentale per la visione che è globale di dieta mediterranea Pensiamo a due paesi tipo l'Italia e la Cina che insomma hanno tradizioni lunghissime sulla pasta questo ti fa capire come oh, altro esempio il garum noi abbiamo facciamo il garum oggi in Asia a distanza di tantissimi anni c'è la salsa di pesce Poi lo riprenderemo Poi lo riprenderemo questo concetto Ok, non diamo più le anticipazioni Sì, sì, no ho buttato così Tu butti un po' Esatto Ok, va bene, va bene Dato la vita nello stagno La pasta quindi ha questa funzione di visione globale cioè farti capire come due nazioni in due continenti distanti con due filuni culturali gastronomici differenti abbiano però in comune l'utilizzo di un prodotto Cioè è È estremamente affascinante perché poi effettivamente noi a volte non ci pensiamo o non lo sappiamo quanto uno degli alimenti che utilizziamo tutti i giorni che fa parte della nostra dieta quotidiana poi in realtà abbia una storia molto antica che non è soltanto e propriamente nostra ma ha subito delle evoluzioni che poi è anche proprio della dieta mediterranea in sé Certo Perché io e te poi abbiamo anche chiacchierato un po' e tu mi hai spiegato che la dieta mediterranea quella che noi conosciamo oggi è il frutto di influenze antiche che arrivano da da paesi molto lontani Allora studiando veramente il Mediterraneo ti rendi conto come è l'essenza delle contaminazioni è l'essenza delle influenze perché non si può parlare di Mediterraneo senza parlare di influenze cioè è impossibile perché immagina tutte le dominazioni gli arabi i fenici cioè sono state non dico migliaia ma veramente però sicuramente è nutrita la storia Prendiamo ad esempio la piramide alimentare quella che vediamo penso ognuno di noi abbiamo sempre visto alla base troviamo ovviamente i prodotti che dovrebbero essere consumati di più ma questo lo sappiamo già tutti facciamo un piccolo focus su quelli che sono gli ingredienti cioè il prodotto che noi visualizziamo troviamo melanzana importata dall'Asia abbiamo alcuni frutti come gli agrumi che vengono importati dagli arabi abbiamo il pomodoro viene importato dalle Americhe quindi di quale di cioè come fai a ridurre geograficamente il Mediterraneo è impossibile cioè stai parlando di una tradizione a livello di prodotti poi le tecniche sono ovviamente differenti per ogni paese ma a livello di prodotti c'è una contaminazione fin dalla base l'esempio più bello che io riporto sempre quando mi viene data l'occasione di poter parlare alle persone e non essere chiuso nelle mie quattro mura è l'esempio della parmigiana penso che tutti noi abbiamo almeno una volta nella vita mangiato la parmigiana no? dovete sapere che l'origine di questa parmigiana si trova in un ricettario arabo e si parla di parmesano ora non so esattamente l'accento perdonatemi parla praticamente di queste persiane che servono ovviamente per proteggersi dal sole e gli arabi che cosa facevano? mettevano queste fette di melanzana scalate l'una all'altra ci grattugiavano questa sorta di pecorino trovato ovviamente approdato in Sicilia e rompevano il pane quindi se noi dovessimo parlare di pura tradizione dovremmo parlare di quella però c'è stata un'evoluzione nel 1500 nel 1500 quando entra a far parte della nostra cultura il pomodoro oggi oggi non penso nessuno si sognerebbe di mangiare una parmigiana senza la salsa di pomodoro è difficile è difficile però tu pensa pensa come ok ci abbiamo messo parecchi anni però pensa all'evoluzione che c'è stata cioè di come è un insegnamento che tu stai praticamente tramandando e questo è il vero fascino oggi noi abbiamo scelto però una ricetta che racconta anche un pochino questo fascino dimmela tu la ricetta di oggi è una la contaminazione nuove contaminazioni della pasta e fagioli quindi la nostra classica pasta e fagioli quella che conosciamo tutti tu hai deciso di reinterpretarla sì a modo tuo quali sono gli ingredienti di questa pasta e fagioli allora ti faccio prima un breve esunto del perché vai perché con il nostro team abbiamo appunto da poco iniziato a pensare quale sarà dice l'evoluzione che è la contaminazione del futuro cioè come mangeremo magari una pasta e fagioli tra 150 anni questa è stata una missione grande però ci stiamo provando allora e ti racconto adesso tutti quanti gli ingredienti perché sono perché ne vedo un po' sono particolari quindi le lascio raccontare a te allora ciao tu regia mi prendi gli ingredienti ok perfetto allora cominciamo da questo qua questo qua è un fagiolo si chiama fagiolo cosarusharu è un presidio slow food siciliano questo qua è il pronipote del fagiolo vigna cioè è un fagiolo importata dall'Asia con gli arabi dopodiché cosa abbiamo abbiamo questo qua che è un nukazuke il nukazuke è un fermentato di farro quindi farro acqua sale e zenzero nel mio caso si questo qua molto interessante si è sentito questi profumi di salamoia si qui invece abbiamo un miso un miso è un fermentato con base cogi qua abbiamo i fagioli cosarusharu che si rompono durante la cottura che sarebbero questi qua che dopo vediamo e poi c'è ci sono delle alghe questi qua sono sono importanti sono elementi molto importanti perché c'è l'approccio di recupero dei prodotti di scarto poi parleremo anche però qui ci sono dei yusi vedi il nukazuke è antichissimo viene come il miso vengono importati da dei monaci buddhisti cinesi che come gli arabi molto prima di loro dovevano conservare dovevano conservare la pasta dovevano conservare il loro grano in Cina hanno sviluppato questo qua però oggi applichiamo una contaminazione di un altro popolo quindi di un'altra cultura lo applichiamo a un fare prettamente mediterraneo con prodotti mediterranei dopodiché abbiamo i fagioli sempre sono i nostri cosarusharu che sono stati questi qua cinque giorni a fermentare nel nukazuke cosa succede? acquistano di acidità alziamo la percezione di acido glutammico quindi ce lo fa sembrare molto più buono perché si arricchisce si insaporisce dopodiché ritorniamo a noi ritorniamo l'acqua di cottura dei fagioli noi cosa facciamo? facciamo una mirepoix di sedano carota e cipolla facciamo cuocere i fagioli i fagioli interi li facciamo fermentare nel nukazuke il restante vanno a finire nel miso quindi lo usiamo per fare il nostro miso mentre questa qua è solo l'acqua molto ridotta pensate che da 5 litri arriviamo a mezzo litro sì perché la vediamo molto densa sì 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 ma è solo acqua non ci sono fagioli e dopodiché abbiamo la una mirepoix abrasata questa anzi più una brunoise una brunoise di cipolla un olio al rosmarino la nostra pasta mista e dopodiché ci fermiamo sull'ultimo ingrediente che è il garum che è questo qui un attimo lo mettiamo eccolo qua questo garum ha una storia certo è antichissima tra l'altro è bellissima allora il garum è una salsa di condimento dell'antica Roma viene menzionata nei libri di Apicio non c'è una ricetta perché il loro garum era paragonabile al nostro olio quindi non c'è una ricetta dettagliata e specifica del garum Apicio ci dà solo dei suggerimenti di come viene viene prodotto tu l'hai nominato e noi adesso stiamo vedendo il libro di Apicio perché in Accademia Barilla nella biblioteca di Accademia Barilla c'è una copia originale del libro di Apicio dove viene nominato il libro di Apicio viene conservato nei musei vaticani l'originale dove viene nominato il garum e raccontato come utilizzarlo quindi è veramente molto antico il suo utilizzo ti ho interrotto ma questo meritava no no assolutamente anzi ho avuto l'occasione bellissima di stare in biblioteca infatti penso che ci passerò molto più tempo la prossima volta vi avviso e anche perché ci sono 15.000 volumi nella biblioteca avrai modo da leggere ce n'è questo allora quindi già insomma abbiamo capito che cosa è il garum però in essere che cos'è gli ingredienti era un fermentato o meglio una salamoia di interiore di pesce ce ne erano diversi anche con diverse destinazioni immaginate che era merce di scambio la maggior parte dei garum venivano prodotti con l'interiore di alici già era più pregiato quello l'ha fatto con gli sgombri invece c'era il più buono per i romani che veniva sempre con una base di interiore di sgombri veniva aggiunta del sangue di tonno e questo veniva chiamato flos floris che per i romani era il massimo dell'eleganza a tavola si si addirittura si avevano delle ampolle dove freggiarsi addirittura di avere un flos floris che è con il sangue di tonno in questo caso abbiamo deciso di eliminare di eliminare quelli che che erano l'interiore di pesce abbiamo deciso di usare funghi e fagioli allora intanto cariamo la pasta perché è giusto non ci possiamo no ora veramente ok perfetto una pasta mista esatto è una pasta mista a cui ho aggiunto delle pipette rigate però questa qua ovviamente anche qui è una pasta di recupero quindi si può fare con i ditaloni si può fare con i vari pacchetti di pasta che non utilizziamo a casa possiamo fare la stessa identica cosa anche una ricetta di recupero in un qualche modo adesso sono gli insegnamenti cioè è cultura mediterranea parlare di recupero parlare di conservazione lunga cioè fa parte del mediterraneo quanti anni hai i garum che tu stai utilizzando vero perché prima abbiamo parlato allora questo garum è un garum che ha due anni due anni che è stato questo è non si è mosso da qua c'è stato un solo travaso perché all'inizio era un bel po' consistente sì 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 però ci tengo tantissimo perché il garum è super interessante è tecnicamente un'autodigestione proteica di a parte di alcuni enzimi proteolitici quindi si nutrono di proteine farlo nel mondo del vegetale è molto difficile almeno che non si usano percentuali di sale altissime allora siamo tranquilli ma questo qua l'abbiamo fatto al 18% di sale che è bassino cioè anche chi lo fa più basso ci arriveremo però ovviamente noi lo facciamo al 18% però ovviamente per avere tutto quel carico proteico abbiamo utilizzato appunto funghi e fagioli che sono ad alto contenuto proteico cominciamo si direi allora però sono tutti ingredienti che sono atipici nella nostra mediterraneità si rispetto al classico utilizzo in cucina ma parlando proprio ed è il motivo per cui questa ricetta risulta molto affascinante perché si lega perfettamente con il tema di oggi cioè il guardare la dieta mediterranea con un'ottica un pochino inoltre i confini nazionali in un'ottica globale ma perché perché è vero che la dieta mediterranea è lo stile italiano ma i fondamenti della dieta mediterranea possono anche essere utilizzati da altri paesi rimanendo saldi assolutamente sì quanto possono essere importanti le influenze le contaminazioni nella dieta mediterranea come lo vedi? Fondamentali le contaminazioni sono fondamentali per la prossima evoluzione quello su cui noi stiamo lavorando è proprio il futuro cioè pensa io dico c'è una frase che dico spesso dico oggi io credo che stiamo vivendo la nuova fase di evoluzione del Mediterraneo perché siamo noi ragazzi io gira perché ogni tanto devo cucinare perché stiamo è bello vederti cucinare mentre parli stiamo vivendo una nuova fase di contaminazione che perché stiamo vivendo una nuova fase di contaminazione perché siamo noi giovani che siamo andati fuori come me c'è stata tanta gente che ovviamente ha girato ha visto altre cose ok e sta contaminando le proprie tradizioni con altre tradizioni perché tu ovviamente esci fuori guardi il ragazzo che ti fa il miso e dici aspetta ma il miso lo posso applicare al mio pomodoro lo posso applicare al mio basilico lo posso applicare da lì nascono altre contaminazioni quindi sono necessarie per l'evoluzione le contaminazioni sono necessarie per noi in Italia ma sono necessarie poi anche fuori perché effettivamente le buone regole dettate dalla dieta mediterranea se prese e portate all'estero ovviamente possono essere interpretate con gli ingredienti degli altri paesi secondo te è possibile nei tuoi viaggi è una cosa che hai potuto osservare come cambiamento rispetto al passato la vedi possibile questa visione questa dieta mediterranea secondo te potrà essere globale perché in realtà io lo sto lo sto vedendo questo cambiamento però tu sei tu hai viaggiato e hai avuto insomma che fare con tante cucine diverse è globale la cucina mediterranea ha una visione globale e l'esempio sono tutto quello che io oggi ho qui l'esempio che ti ho fatto prima della pasta di come sono due culture completamente differenti che usano lo stesso prodotto il garum ok è nostro lasciamolo perdere prendiamo il miso il miso è una preparazione di un altro paese addirittura di un altro continente e adesso noi la stiamo riportando in Italia utilizzando un prodotto un po' più nostro più territoriale quindi questo è il futuro cioè chiunque può fare cucina mediterranea il mediterraneo grazie alla pasta grazie a questi prodotti diventa concettuale cioè mi piace molto questo concetto non è più pomodoro zucchina melanzana pasta se no non fai mediterraneo no il mediterraneo diventa un concetto un concetto di evoluzione un concetto di sviluppo di sostenibilità anche perché anche l'utilizzare gli ingredienti proprio di ogni singolo paese vuol dire sostenibilità assolutamente cosa stai facendo? allora sto aggiungendo io sono a distanza ma sento i profumi sì sto aggiungendo del miso ai fagioli quindi sto usando miso ai fagioli per condire ok dei fagioli fermentati con luga zucca quindi abbiamo un livello di saporito un livello di glutamato molto molto alto molto elevato esatto anche perché in tutto questo non c'è sale c'è il classico coloruro di sodio il sale della cucina quindi tutto naturale naturalmente degli ingredienti che stai utilizzando esatto perché io non devo spingere con sale perché ho la sabidità del miso ho la sabidità del fermentato di nuga zucca il camera mi dice che è pronta la pasta è pronta la pasta ti sto lasciando in silenzio in un momento della ok però questa ricetta che è veramente molto particolare rispecchia anche altre che abbiamo visto prima altri tuoi piatti sì esattamente come ti vengono in mente cosa ti fa ispirare studio studio fondamentalmente lo studio è la voglia di spingersi andare sempre oltre oggi la faccio così domani voglio migliorarmi domani voglio fare voglio aggiungere un tassello in più a quello che so fare è questo cioè come lo fa come applico questa teoria alla mia vita privata così lo applico alla vita professionale allo studio in università cioè io a volte purtroppo io con il lavoro che faccio a volte finisco anche a luna di notte sono professore universale che mi ha un appuntamento alle sette e mezza e loro vanno a dormire prima e vanno a dormire prima di me però lì è cioè la puoi dire no vabbè basta voglio riposarmi io invece cerco sempre di superare i limiti di me stesso tutti i giorni e quindi questo per me è la stessa identica cosa oggi faccio questo io per esempio ho un piccolo limite personale io prima di mettere un piatto in carta passa veramente tantissimo tempo lo provi lo ripresi no io io ti dico solamente che per il questo piatto la mia brigata ha mangiato pasta e fagioli per la bellezza di 16 giorni abbiamo provato allo sfinimento è buonissima però insomma 16 giorni di pasta e fagioli il quattordicesimo giorno mi hanno detto chef è la pasta più buona del mondo però basta per favore è la più buona del mondo basta sì le ho presi così allora caratteristica di questa pasta siccome abbiamo molti fermentati quindi io voglio farti sentire la città del fagiolo la sapidità del miso non ho cotto la pasta in maniera tradizionale e come vedete adesso è spentata già da un bel po' lo vedo è spentata già da un bel po' uno perché non volevo troppo amido all'interno della pasta due per farti apprezzare tutte queste sfumature ok preferisco tenere la pasta tipida come la stessa cosa l'acqua l'acqua di cottura dei fagioli anche questa qua io vedi non l'ho scaldata e non voglio che entrando in padella si scalbi perché voglio tenere quella che sono tutti i profumi tutti gli aromi della fermentazione del miso ok lo sento mi dispiace che non lo possano sentire sì perché poi sono sapori diciamo belli 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 strong belli decisi sembra veramente una pastata quell'acqua di cottura sembra una quasi una crema perché riduce tantissimo cioè è molto più liquido si vede la differenza che proprio non è super cremosa è molto cioè è la base è molto liquida però è vero così è molto cremosa soprattutto perché è fredda ok a questo io la lascio molto molto compatta come diciamo da noi molto azzeccata che a noi così piace bella prepotente rende l'idea esatto allora adesso che praticamente siamo fuori dal fuoco quindi anche spenti dimmi tu posso stare qua ok dalla regia ok si aggiungiamo il nostro garum moderatamente si no io di moderatamente a me deve essere io sono i gusti si devono sentire sono abbastanza prepotente su questo punto di vista giusto e qualche goccio di olio al rosmarino ole allora un attimino un po' di acqua c'è molta ricerca dietro questo piatto anche a livello di ingredienti ma la ricerca negli ingredienti quanto è importante perché effettivamente mi hai fatto vedere anche i fagioli sono dei fagioli sono un presidio slow food giusto e non sono molto conosciuti cioè la tua cucina serve anche per far conoscere gli ingredienti che si sono anche un pochino non dico persi ma comunque meno comuni della nostra mediterraneità sai quante volte mi è capitato di servire il fagiolo cosarusharu appunto a persone siciliane e mi dicono ma questo fagiolo buonissimo dove lo posso comprare dove viene fatto qua signora un'ora e mezza dal ristorante viene prodotto e fa no ma non ci posso credere questo questo ti fa capire di come sia importante oggi parlare parlare di questo parlare di territorio parlare di ingredienti con un approccio globale certo un approccio che può essere il nukazuco che può essere il miso che può essere il garum invece di recupero storico quindi è fondamentale finisco qui allora faccio finire il religioso silenzio cosa succede quindi abbiamo la nostra classica pasta e fagioli come potete vedere cioè impiattata normalissima dopodiché sopra andiamo a mettere un po' di nukazuco e quindi il nukazuco e questo qua in questo caso di farlo perché ovviamente può essere con qualsiasi crusca noi vogliamo ripeto io sono prepotente come ti avevo detto ma va bene quindi un bel po' ne mettiamo ed eccolo qui in questo momento è troppo lontana da me pasta e fagioli semplicissima pasta e fagioli semplicissima pasta e fagioli che però è il nostro esempio di visione globale certo della dieta mediterranea e tu pensa che qui hai usato un recupero storico del garum un nukazuco in Asia fagiolo importato dagli arabi hai viaggiato tutto il mondo hai viaggiato tutto il mondo e stai mangiando super italiano stai mangiando cioè idea globale super italiano è fantastica è veramente un'idea eccellente e ripeto è un perfetto esempio di quello di cui oggi stiamo parlando ti chiedo un'altra cosa ma mi hai parlato insomma del ruolo che voi giovani chef avete che è importantissimo quanto hai modo tu di confrontarti anche con i giovani chef all'estero quanto è quanto ti aiuta quotidianamente in quello che poi tu inventi che poi tu fai quello che dicevo all'inizio quando parlavo noi stiamo cercando con tutto il team di pensare al futuro della dieta mediterranea è fondamentale allo stesso tempo avere un confronto abbiamo infatti insieme a Marco Ambrosino creato Collettivo Mediterraneo che è una piattaforma landing dove far arrivare praticamente tutte le informazioni da tantissimi ragazzi da tantissimi ragazzi in maniera tale che con questo qua riusciamo veramente a sviluppare piano piano il futuro di questo tipo di cucina ce l'hai in testa? ci stiamo lavorando non ci dici proprio niente 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 ci sono allora ci sono tantissimi lavori di ricerca stiamo addirittura allargando quella che è la nostra conoscenza con le università con antropologi del cibo quindi si sta allargando però vedrete prossimamente posso dire questa cosa qui vedrete prossimamente quello che faremo ci lasci con un po' di curiosità con il dubbio il dubbio e la curiosità va bene va bene allora noi abbiamo visto la ricetta abbiamo fatto due chiacchiere insieme ripeto secondo me quello di oggi è stata una conversazione che ci ha dato veramente molti spunti molti spunti per ragionare su quello che facciamo tutti i giorni a livello di abitudini di buone abitudini alimentari di quello che è buono per noi è buono per il pianeta ma anche vedere che quello che noi consumiamo quotidianamente le regole che utilizziamo quotidianamente poi effettivamente ci avvicinano anche al resto del mondo perché guarda ti faccio questo esempio immagina in casa con tutti a volte non dico gli sprechi ma gli scarti di organico che facciamo pensare di conservarli per andare a creare un miso immagina che evoluzione sarebbe se all'interno delle nostre case iniziassimo a smaltire non dico ok la plastica va benissimo ma l'organico iniziare a dare vita a un prodotto di scarto ma non per fare la solita tiridera non sprechiamo no insegnare cioè veramente io spero che tra 100 anni 150 anni il cuoco appassionato non il cuoco come professione ma il cuoco appassionato chi cucina a casa per fare la pasta e fagioli userà un cucchiaio di miso che magari ha nella manzarda in cucina certo cioè questo è quello che noi vogliamo andare a toccare con collettivo con la visione di un nuovo Mediterraneo e dovrebbe essere missione di tutti di tutti noi ragazzi puntare a fare questo è una tendenza che tu stai osservando questo interesse per me è importantissimo io oggi sono arrivato che è la bussa dell'organico al ristorante è quasi sempre vuota perché cerchiamo in tutti i modi di utilizzare scarti di pesce scarti di carne vanno a finire a fare garum vanno a finire a fare altre preparazioni è importantissimo oggi sai che mi dicono che c'è una domanda per te bellissimo adesso io però mi faccio vai vai prendila prendila prendola prendola si si prendila prendila se no vado io dimmi te allora si vede che c'è qualcuno che si è collegato un attimo dopo e mi chiedono il formato di pasta che hai utilizzato allora questa qua è un quello là che ho usato è pasta mista ma con l'aggiunta di pipette rigate ma possiamo andarlo a sostituire con dei ditaloni possiamo andarlo a sostituire con i fondi che rimangono dai vari pacchi di pasta che utilizziamo sempre per il discorso del recupero sempre di recupero sempre di assoluto recupero allora direi che siamo arrivati al termine ahimè mi dispiace mi dispiace concludere e salutare però per i saluti finali mi piacerebbe che tornasse qua Andrea Belli gruppo relazioni esterne Barilla però non so se devo andare a chiamare se vediamo se riusciamo ci siamo persi Andrea per strada però no perché io poi faccio fatica a resistere avendo il piatto di questa non si può toccare lo so che non si può toccare lo so che non si può toccare eccolo qui il buon Andrea eccolo stiamo salutando ti abbiamo perso salutiamo i nostri gentili ospiti il nostro chef complimenti Davide grazie complimenti davvero complimenti Chiara ancora saluti a tutti dalla accademia Barilla e a questo piatto ecco contatti che andremo a pianificare e a proporvi nelle prossime settimane e prossimi mesi quindi teniamoci sentiti in contatto attraverso i nostri canali di comunicazione che sono i nostri canali social di Accademia Barilla di Barilla dei nostri brand e ovviamente i nostri siti web che sono costantemente aggiornati dai nostri dai miei colleghi che davvero ringrazio e colgo l'opportunità di ringraziare perché anche soprattutto grazie al loro contributo e al loro lavoro e passione anche stasera penso abbiamo organizzato una bella sessione che ci auguriamo ricca di spunti abbiamo potuto apprezzare buona serata tutti buona serata grazie a voi grazie in Barilla crediamo che il cibo abbia la forza di cambiare il mondo questo perché il benessere delle persone nasce anche dal benessere di ciò che mangiamo la nostra filosofia è ispirata dalla dieta mediterranea dal suo modello alimentare sano ed equilibrato capace di regalare esperienze sensoriali uniche in Accademia Barilla ogni giorno ci impegniamo per ispirare le persone e avvicinarla ad una cucina progressista capace di portare benessere alle generazioni future nello stesso luogo dove nel 1910 aprì il primo stabilimento Barilla oggi sorge Accademia al suo interno si trovano le più antiche radici del cibo una biblioteca ricca di 15.000 volumi e 5.000 menù storici risalenti al XVI secolo ogni giorno spingiamo un po' più in là i confini della sperimentazione e dell'innovazione culinaria italiana lo facciamo coinvolgendo e lavorando fianco a fianco con esperti gastronomici autorevoli e con i migliori chef grazie al Barilla Pasta World Championship scopriamo e lanciamo giovani chef di talento i nostri nuovi ambasciatori della pasta nel mondo la cultura della cucina italiana è al centro di ogni nostra azione e relazione anche con i nostri partner e clienti abbiamo un unico grande sogno contribuire a migliorare il futuro dando nuova vita alla cucina italiana una cucina bella buona e che fa bene